ciao buongiorno visto che vi piacciono questi video così tirati fuori dalla realtà on board camera e visto che adesso sono le 8 del mattino volevo iniziare la quarta giornata di testa altre 8 ore di diretta no non è così non siamo alla follia certo non vi avrebbe da chiamare Matteo bobbia di Matteo dai facciamo altre 8 ore così sul nulla oggi però mi sono svegliato con una riflessione rimettendo un po insieme tutti i dati che abbiamo analizzato anche ieri sera e vorrei sapere intanto mio figlio mi ha detto che non devo dire seguite il canale ma devo dirvi iscrivetevi al canale così facciamo altri video random grezzi per ricordare che poi dovete seguirci su sky e su now su now e su sky tanto iscrivetevi al canale e quindi mettendo insieme un po tutti i dati ieri sera iniziando a messaggiare con un po di persone all'interno dei diversi team vi posso dire tanto che il red bull vedono una ferrari competitiva loro vedono di avere un potenziale enorme ma qualche qualche difficoltà nel setup di queste nuove forme di questa nuova macchina ce l'hanno non che siano preoccupati però vedono anche un perez che nel giorno e mezzo che ha guidato è in grande difficoltà ci stanno già lavorando ovviamente questione di setup questione di fargli trovare il feeling con la macchina però vedono un perez che al momento se così sarà è alle spalle della ferrari mentre max ha un vantaggio viene quantificato oggi in 3 4 decimi poi la prima gara in barena distruggerà tutto quello che stiamo dicendo o darà altre altre conferme o ribalterà magari tutto quello che stiamo dicendo questo è il bello o il brutto dei dei test in attesa della prima gara ribadisco fino alla nausea che pensare che max sia battibile è puro eufemismo ad oggi considerando gli sberloni che ha rifelato a tutti la passata stagione arriviamo da una stagione di dominio assoluto e non abbiamo visto una red bull che ha sbagliato la macchina abbiamo visto una red bull che con max vola nel trend positivo sia nel ripetere in modo maniacale quasi i tempi max da oggi lo chiameremo 137 e 1 però molto solide entrambi i entrambi i long run dei due piloti della ferrari oggi sentendo un po tutti ribadiamo la classifica data ieri max verstappen le due ferrari perez che è lì che salta tra le due ferrari con le mclaren con la mercedes con l'aston martin leggermente più dietro e racing bulls da ribadisco valutare però non volevo rifare le stesse valutazioni dell'ultimo video ma volevo semplicemente e vorrei sapere cosa ne pensate voi nei commenti quindi scrivete scrivete poi magari facciamo un video dove rispondo a tutti i vostri commenti così facciamo diamo continuità a questi video che servono sostanzialmente a fare un po di bar e di condivisione di pensieri pensieri perché poi noi non abbiamo la verità assoluta in mano vedo che molti ce l'hanno pur non vivendo la quotidianità della formula 1 buon per loro sicuramente noi la verità assoluta non ce l'abbiamo in mano finché non abbiamo risconti economici reali la riflessione è poi ditemi cosa ne pensate nei commenti che se effettivamente questa è la situazione ovviamente dovrebbe poi essere ribadita per 24 gare e siamo legati agli sviluppi che queste macchine avranno la curva di sviluppo quanto più o meno grande è all'interno dei singoli team comunque a oggi in un mondo in un mondo diciamo senza variabili da quello che abbiamo visto è che la ferrari può lottare per il mondiale può lottare per il mondiale può lottare per il mondiale costruttori perché se oggettivamente c'è un max che sta davanti e perez è in difficoltà vuol dire che ti può infilare tra max e perez e magari qualcun altro sta davanti a perez cosa vorrebbe dire max fa 25 più punti più il giro veloce 26 se a ferrari è questa e si confermerà questa può fare 33 punti poi bisogna vedere dove sta dove sta perez però vorrebbe dire tutto sommato a livello di punti per squadra ogni gara ferrari potrebbe anche forse non ogni gara però potrebbe pensare di fare più punti della red bull non facile ovvio perché poi basta che perez sia quarto sia quinto sia terzo sia come al potenziale per fare secondo però è un discorso che non abbiamo affrontato abbiamo parlato e ci siamo concentrati sempre tutti e solo sul mondiale piloti che a oggi è nelle mani di max non c'è dubbio su questo a oggi sempre a oggi non stiamo dando delle valutazioni fine stagione tra due gare tra tre gare a oggi diciamo che il mondiale piloti è nelle mani di max ma il mondiale costruttore è quello che a oggi sembra un obiettivo possibile per la ferrari a oggi però voglio sapere nei commenti del perché noi non abbiamo parlato e non parliamo di questo potenziale della ferrari per il mondiale costruttori ricordo nel 1999 lì ci fu l'incidente di schumacher l'infortunio di schumacher altrimenti o probabilmente schumacher avrebbe vinto il suo primo titolo in ferrari già nel 99 cosa che non è riuscita ed Irvine poi dovremmo fare tutto un altro video sul perché ed Irvine non ha vinto quel mondiale però la ferrari nel 99 vinse il mondiale costruttori poi iniziò il filotto dei cinque mondiali consecutivi e i conseguenti costruttori delle cinque stagioni successive però ci pensavo stamattina alle 7.55 quando nei giorni scorsi abbiamo aperto la diretta dei test però la sveglia della testa è quella perché non diamo peso al mondiale costruttori in un campionato che vive di squadre di team e continuiamo a ribadire di lavoro di squadra perché a noi interessa solo il mondiale piloti però forse la testa dobbiamo un po' resettarla sul fatto che il mondiale costruttori è quello al quale alcuni team guardano di più Red Bull è una di quelle squadre che guarda al piloti del costruttore sì va bene ma guarda ai piloti costruttori probabilmente interessa di più a quelli che sono costruttori Red Bull costruisce una latina nel mondo Ferrari costruisce macchine è un costruttore Mercedes costruisce macchine è un costruttore Aston Martin costruisce macchine è un costruttore Alpine costruisce macchine è un costruttore McLaren costruisce macchine è un costruttore Quindi forse per questo per alcuni team nella storia all'interno del team non ha più peso ovviamente emotivo ma conquistare costruttori ha un peso fondamentale Comunque detto questo volevo sapere nei commenti se sareste soddisfatti di vedere la Ferrari in lotta per i costruttori ma con un max ampiamente avanti nei piloti Voglio sapere nei commenti se pensate che Ferrari possa essere in lotta effettivamente per questo mondiale costruttori Voglio sapere nei commenti se pensate che Ferrari possa essere in lotta per i piloti Voglio sapere nei commenti dove pensate che Ferrari possa posizionarsi in questo mondiale a oggi Vorrei sapere nei commenti la vostra griglia di partenza Vorrei sapere la classifica vostra dopo questi test Perché bisogna adesso a oggi Dividere il fatto Che non possiamo fare la classifica Red Bull Ferrari Ma dobbiamo fare la classifica Max Bull Ferrari E la Red Bull oggi è il team con maggior differenza nei test Nei test Ribadiamola questa cosa perché poi andiamo in Bahrain e vediamo uno o due della Red Bull A oggi nei test è il team Forse insieme alla Williams ecco Con la maggior differenza tra i due piloti che ha in pista Ed è ovviamente un problema che in casa Red Bull devono risolvere E magari dovesse continuare il trend che abbiamo visto nei test Ricciardo è pronto per sostituire Sergio Perez